Comandante Serrani grazie della disponibilità. Benvenuti a bordo di nave Pao Town di Revelle, il primo PPA della Marina Militare. Adesso faremo un giro completo dell'unità e approfondiremo tutti gli aspetti capacitivi della nave man mano che andiamo avanti con il nostro giro. Ci fermiamo subito a centro nave perché l'unità viene concepita secondo il concetto di flessibilità soprattutto di modularità. In particolare è dotata di due zone modulari e questa è la prima, a centro nare. Bisogna modulare perché di fatto la nave non nasce con un task specifico ma ha la capacità di configurarsi in base alla missione assegnata. Questo cambio di configurazione avviene tramite la possibilità di imbarcare o sbarcare anche dei container che hanno diversi scopi. Si va dalla parte logistica alla possibilità di implementare le capacità abitative dell'equipaggio. In futuro verranno acquisiti anche container a scopo di comando e controllo per creare delle staff room o di aumentare la capacità ospedaliera che in questo momento è limitata a un'infermeria quindi tecnicamente un role 1 per un primo intervento oltre che per la gestione rutinaria della parte sanitaria dell'equipaggio. Questa zona qui il cambio di configurazione è demandato esclusivamente alla nave ovvero grazie a questa dotazione una gru dalla portata di 20 tonnellate si ha la capacità di eventualmente sbarcare le gru davits che abbiamo a disposizione sul lato dritto e sinistro che nascono per alloggiare dei piccoli natanti quindi gommoni da 7 metri e mezzo o da 9 metri per le operazioni speciali e eventualmente sostituirli con un certo numero di container i cui alloggiamenti si trovano sul sul ponte di connetta. Possiamo continuare in giro Lei ha assunto il comando a dicembre di questo anno? Io ho assunto il comando il 30 dicembre a Dubai mentre la nave era impegnata nella missione Agenor ho portato a completamento la missione e l'unità ha fatto rientro in sede il 27 gennaio e dopodiché è stata ferma per un piccolo periodo per attività manutenitiva di livello diciamo minore dopodiché ha ripreso il mare dal 15 marzo fino al 5 maggio periodo in cui ha operato per la prima volta in un dispositivo nato assegnato al gruppo standing delle forze navali della nato nel mediterraneo centro orientale e poi nel mese di aprile è anche partecipato alla fase finale dell'esercitazione mare aperto 23 1 la cosa che colpisce subito sono le scalette da una facilità sì sì questo è il trunk scale principale è quello più più agevole che ci conduce dal ponte di coperta su fino alla COC e la PLOC che sarà dove risiede il naval cockpit benissimo qui siamo nella COC la COC si presenta in maniera diciamo molto innovativa richiama molto le centrali operative di un ente centrale la grandissima novità è che tutta la tecnologia che risiede nella CC è completamente remotizzata quindi in questo locale non risiede nessun apparato hardware sono solo repliche dei computer che sono installati in un altro ponte questo cosa permette ovviamente in linea con il concetto di flessibilità con cui la nave è studiata e realizzata si ha la possibilità di operare in maniera identica su ognuna di queste postazioni questo perché il tutto è basato su una semplice tecnologia di inserimento delle proprie credenziali per cui la postazione dei singoli operatori è stata stabilita per convenzione ma di fatto per eventuali necessità o anche avarie di fatto lo stesso operatore può cambiare la propria postazione, la propria workstation avendo le stesse capacità di operare indipendentemente, indifferentemente tra una postazione e l'altra quello che colpisce immediatamente è la dimensione dello schermo della postazione è solo il doppio di quello di una frame? esatto, sì, sono il doppio, forse anche qualcosina in più del doppio la tecnologia ovviamente è tutta digitale e tutto touchscreen ovviamente ogni postazione ha una tastiera di backup per facilitare la disidistrazione soprattutto quando in scenari tattici operativi si è obbligati anche a indossare guanti protettivi e quant'altro che impedirebbero l'utilizzo dei monitor in modalità patch comunque la dimensione importante di ogni monitor è fondamentalmente dovuta alla possibilità per ogni singolo operatore di operare contemporaneamente su quattro reti proprio perché essendo tecnologia remotizzata le reti entrano in ogni stazione in maniera indipendente senza creare conflitto tra le stesse di fatto questa è la rappresentazione che abbiamo a mosaico che è il massimo numero di riquadri su cui l'operatore può effettivamente lavorare qui avremmo, in questo momento ovviamente gli apparati sono tutti spenti quindi sono tutte repliche di apparati in stand-by però qui risiede la rete non classificata marina qui la rete classificata marina, una rete di coalizione e invece qui viene rappresentato il CMS che è il Combat Management System quindi nella sua versione più aggiornata SADOC 4 dove confluiscono tutte le informazioni operative che poi permettono di condurre le attività in consumo sommariamente il personale della centrale operativa come viene diviso allora il personale della centrale operativa ovviamente la nave quando impegnata in attività può assumere diversi ruoli a seconda del livello operativo dello scenario in corso quindi si parte da un livello operativo addestrativo quindi con una tornazione di persone di guardia sul famoso 4-8 quindi 4 ore di guardia e 8 ore di riposo comunque da dedicare ad altre mansioni piuttosto che a situazioni in cui è richiesto uno sforzo in termini di manning del personale più intenso dove si passa a una tornazione di due squadre quindi l'equipaggio viene diviso in due gruppi quindi anche il numero di operatori aumenta fino al massimo livello di degrado dove ho bisogno che tutto l'equipaggio sia operativo anche in SCOC piuttosto che nelle altre articolazioni di bordo in base ovviamente alle proprie competenze e specializzazioni perfetto la nave in generale ecco per dare qualche informazione in generale su Town di Revell è la prima della classe e come tale nasce nella configurazione light quindi è fitted for quindi a tutte le predisposizioni per un futuro aggiornamento alla versione full in questo momento la versione light la nave presenta un dislocamento a peso massimo di 6.700 tonnellate una lunghezza di 143 metri e a livello di sistemi d'arma dispone di due sistemi di artiglieria 127,64 per ora, 7662 sovrapponte a poppa è un modello prototipico tra l'altro più il piccolo calibro ovvero le mitragliere da 2580 che a differenza delle frame è un sistema completamente remotizzato quando andremo in plancia chiamata su questa nave PLOC plancia operativa di combattimento e vi farò vedere perché questa denominazione i sensori, i radar a faccia e piatte però sono già quelli che gli stessi che potranno montare sulla versione full le capacità il radar in questo momento sulla versione light è sempre un radar a faccia fisse che opera nella banda X-ray nella versione full verrà implementato anche nella banda Charlie ok, perfetto ovviamente la GOC un altro sistema di supporto al comando molto utile e molto interessante è il mission work screen ripeto che richiama appunto il layout delle centrali operative più moderne tipiche degli enti anche terrestri più che navali di fatto sono monitor completamente parzializzabili e configurabili in base alle mie esigenze di comando o comunque dello scenario richiesto per cui in questo momento lo uso in assetto rappresentanza quindi qualche video promozionale della nave però di fatto in attività operativa vengono utilizzati sia per condurre briefing a favore del comandante o comunque dell'equipaggio più una serie di informazioni che servono di immediata lettura all'ingresso in COC appunto per avere chiara situazione tattica e non solo oltre alla replica del CMS la possibilità anche di avere in proiezione le immagini prodotte dall'IRST che è un sistema di scoperta di superficie visual che opera anche nell'infrarosso e appunto permette è un sistema molto utile è stato usato in maniera molto intensa soprattutto durante l'aggregazione con la NATO permette di avere una situazione tattica intorno alla nave con un buon range di scoperta diciamo parliamo anche di 8 miglia in condizioni climatiche abbiamo realizzato da poco un approfondimento che pubblicheremo a breve è una grossa innovazione per questi 360 gradi costanti per un'unità della marina di fatto il sistema si parla di due torrette la dritta sinistra mi coprono a 180 gradi ecco da pro rafforabilità ripeto è una grossa innovazione sicuramente è un sistema molto molto interessante molto molto utile perché ripeto oltre alla capacità di scoperta dettata dal radar che trasmette comunque delle tracce con tutte le informazioni operative necessarie al comando per sviluppare poi l'azione cinematica anche la possibilità effettivamente di vedere otticamente la traccia anche di notte ne facilita anche l'individuazione la scoperta non limitandosi ad alcune magari informazioni mancanti che possono provenire da sistemi di scoperta tra virgolette anonimi come può essere il radar ma potendo identificare chiaramente quello che può essere un bersaglio ripeto anche in acqua notturno ottimo penso che ci conviene fare il giro di qui eccoci e entriamo nella grossissima novità della classe PPA la PLOC ovvero a differenza di una nave tradizionale dove esiste la plancia di comando quindi il luogo dedicato alla condotta della navigazione PLOC sta per plancia operativa di combattimento questo perché la realizzazione del naval cockpit che poi andremo a vedere più in dettaglio da vicino permette la migrazione di alcuni operatori dalla COC alla plancia compreso il principal warfare officer e l'UGP che assolvono le funzioni di pilota e copilota più altri operatori come l'operatore all'artilleria alla guerra elettronica alle comunicazioni ai segnali quindi tutta la condotta dell'unità a livello operativo ma anche propulsivo lo vedremo poi avvicinandoci al cockpit può essere gestito qui quindi la plancia si trasforma in una sorta di COC quindi è un combinato di luogo il locale comunque comprende questa postazione chiamata ESC che è fondamentalmente la plancia tradizionale quindi abbiamo il volantino per il timoniere la sezione dedicata al direttore di macchina per la condotta alla parte propulsiva più un'altra postazione per quanto riguarda la condotta della navigazione che richiama appunto il radar di navigazione più la parte di cartografia la condotta spicciola diciamo del mezzo a livello operativo l'unità è digitale anche per quanto riguarda si avvale dalla tecnologia digitale anche per quanto riguarda la semplice condotta della navigazione abbiamo la cartografia digitale ECTIS la War ECTIS ovvero la possibilità di inserire informazioni operative nella parte cartografica però ovviamente non ci facciamo mancare la tradizionale carta nautica insomma in formato cartaceo come ultimo backup in caso di avarie su avarie benché tutta la nave ha un sistema di ridondanze è talmente tanto importante che i livelli di degrado dovrebbero essere talmente tali e tanti da prima di portarmi a una condotta veramente tradizionale del mezzo ricorrendo a strumenti digitali o cartacei analogici o cartacei a cui comunque è addestrato a cui ovviamente manteniamo l'addestramento tant'è che ciclicamente i giovani ufficiali sono ancora chiamati a condurre le famose osservazioni astronomiche col sestante e quindi per mantenere insomma l'addestramento mantenere viva la tradizione perché comunque sì come marinai siamo orientati al futuro alle innovazioni tecnologiche e questa nave porta un aggiornamento sul campo delle operazioni navali che è davvero molto importante però non ci sentiamo nella posizione da disconoscere quello che è stato prima di noi quindi cerchiamo di mantenere vive le tradizioni e certe forme di addestramento benché possano sembrare anacronistiche però mai dire mai compresi i nodi compresi i nodi insomma tutta la tradizione marinara noi la continuiamo a portarla avanti ovviamente compatibilmente con la tecnologia che insomma qui la fa un po' da padrona diciamo ora impressiona la visuale da portaerei insomma adesso ci possiamo anche avvicinare alla quella che è la vera la vera innovazione il cockpit se vuole sedersi così può avere una visuale ancora migliore io l'aiuto ok giù da sinistra ok benissimo allora questo è il naval cockpit facendo un un excursus veramente è un layout che richiama perfettamente un elicottero di nuova generazione o anche un un aeroplano insomma comunque una combinazione delle due queste sono nate sotto la miraglia di George e qualcuno che usava dice erano elicotterista da pilota si ok ripartiamo anche se dire da pilota con effettivamente anche i punti di ancoraggio le cinture di sicurezza sono studiate proprio perché che idealmente dovrebbero fare da shock absorber nel caso di una di una collisione frontale o comunque di un di un sinistro e allora dicevamo il cockpit si presenta effettivamente con richiama e in maniera importante praticamente totale il concetto aeronautico e ovviamente ha tagliato a quelle che sono le peculiarità di una nave quindi fondamentalmente andando da sinistra verso il centro e ovviamente la postazione del pilota è speculare quindi le due postazioni pilota e co-pilota sono esattamente intercambiabili si vede la possibilità di gestire l'intera unità dall'assetto delle luci di navigazione fino passando per la parte comunicazioni sia interna che esterna in navigazione gli operatori indossano una cuffia con un microfono e tramite questi pedali hanno la possibilità di attivare la comunicazione interna o esterna andando avanti c'è un computer dedicato alla parte ship management system la replica del sistema di combattimento piuttosto che cartografico anche questi display sono parzializzabili quindi con l'accesso alle reti internet, marintranet, rete classificata la gestione del sistema di combattimento oltre che ovviamente alla condotta dell'unità l'unità può essere condotta indifferentemente dal pilota o dal copilota semplicemente con questo toggle quindi gestione dei volantini, dritta, sinistra la velocità viene impostata con la manetta quindi effettivamente come un aeromobile in questo momento c'è un filtro di privacy però inquadrando da sopra effettivamente si può vedere i motori sono spenti quindi posso tranquillamente aumentare la velocità in questo momento avrei una velocità impostata su entrambe le macchine di sette nodi mi basta dare la conferma con questo pulsante laterale e la nave assume la velocità ordinata ovviamente il tutto può essere gestito anche tramite autopilota che ha la capacità di mantenere una rotta a una velocità piuttosto che percorrere un percorso che viene caricato come emissione questo è molto importante perché la condotta della nave in una missione di trasferimento o di pattugliamento può essere quasi un lavoro aggiunto per gli operatori che in realtà hanno e devono avere come task principale la gestione della sensoristica ora tra quello che io definisco uno degli impatti maggiori a livello di derivazione aeronautica su una nave è proprio la possibilità in due persone di avere il controllo totale dell'unità compreso la gestione della propulsione che avviene su questo pannellino ovviamente in questo momento c'è una luce illuminata COP che è la centrale operativa di propulsione ma tramite questo pulsante di request io posso ottenere la delega dalla COP alla gestione automatica del sistema propulsivo stessa cosa per quanto riguarda la parte di condotta della nave quindi l'utilizzo del volantino ancora prima di essere efficace va ottenuto il comando quindi attraverso il tasto REC che viene trasposto dalla timoneria che ha alle nostre spalle al cockpit di default quando la nave è pronta al disormeggio i comandi sono in plancia dove per plancia si intende la postazione ESC mentre questo è proprio il cockpit una volta acquisiti tutti i controlli in due persone è possibile gestire appunto tutta la parte a livello sensoristico propulsivo e gestione delle informazioni da queste due postazioni ogni operatore, pilota o copilota ha in dotazione queste due tastiere removibili che vengono inserite in questo alloggiamento e permettono al pilota o copilota di gestire sui monitor la email, messaggi, la gestione delle informazioni sulle reti classificate o non classificate a livello di sistema d'arma l'unica limitazione che è strutturale, congenita nell'utilizzo del cockpit è che non è possibile usare le artiglierie il cui utilizzo avviene solo implementando la postazione alla nostra coppa dritta, diciamo, è una postazione MFD di tipo full e la si riconosce perché sul lato dritto è dotato di un joystick con il grilletto potrebbe indurre in errore la presenza di questo grilletto rosso in realtà l'unico sistema d'arma che il pilota o copilota può utilizzare da questa postazione sono le mitragliere da 2580 che sono posizionate a dritta sinistra dall'unità essendo completamente remotizzate a differenza anche delle 2580 installate su frame una volta abilitato il sistema d'arma sul display appare la telecamera associata alla 2580 per cui è possibile con una serie di trim e con questo joystick orientare la canna e poi effettivamente andare al fuoco, ovviamente una volta ricevuta la delega del canno idealmente la nave può, praticamente, la nave può condurre in questo assetto tutti i tipi di operazione perché ritornando alla possibilità di gestire la propulsione dal cockpit è possibile anche avviare e gestire il bow thruster che è l'elica di manovra situata a coppa, leggermente a proravia del cannone ed è appunto un'elica di manovra che permette il mantenimento della prora in situazioni critiche quali sono la manovra di orneggio e disorneggio la nave risente molto degli effetti di vento e corrente è lunga a 143 metri quindi quindi è situata a prova? questa elica è situata a prova? è situata sotto, diciamo, a proravia del cannone perfetto ed è fondamentalmente, non è una via del proprio elica è uno sportellino che viene operato, in questo momento è spento ovviamente la cui intensità viene ordinata in termini di percentuale più percentuale si dà, quindi più forte la spinta e lavora orientando la prora verso la direzione in cui viene dato l'ordine quindi ad esempio se do l'ordine bow 100% a sinistra significa che la prora avrà la spinta massima verso sinistra questo è molto utile per fare degli aggiustamenti in prossimità della panchina o semplicemente per contrastare gli effetti del vento che naturalmente potrebbero portare l'unità in posizioni magari pericolose evitare danneggiamenti appunto nelle fasi critiche viene usato fondamentalmente in manovra tant'è che al di sotto degli otto nodi non è possibile proprio avviare l'apparato quindi velocità ridotte proprio per garantire maggiore manovrabilità dell'unità beh è un bel vantaggio rispetto alle vecchie unità sicuramente mi rende più indipendente e non necessariamente vincolato dall'utilizzo dei rimorchiatori quindi in condizioni, a meno di condizioni di vento proibitive effettivamente la nave si presenta, è molto manovriera, è molto performante quindi riesco a condurre manovre di ormeggio e disormeggio anche al completo autonomo sì, vista la visuale poi sì, la visuale poi è molto importante perché a differenza delle frame ma questa è una mia percezione assolutamente personale avere la zona di manovra completamente scoperta mentre frame si presenta coperta da un punto di vista di sicurezza lo preferisco perché ho la possibilità di vedere cosa accade a prora è una zona pericolosa durante le manovre perché la gente è chiamata a trafficare con i cavi spesso in tensione con gli argani quindi avere un occhio in più verso il personale è sempre utile è sempre utile per stare un po' più sireno da datore di lavoro il comandante anche da un punto di vista datoriale alla responsabilità del proprio equipaggio in termini di sicurezza quindi avere la possibilità di vedere tutto è davvero un valore aggiunto e uno smacco nei confronti di compagni di corso sulle frame? no lo so non so se è uno smacco ognuno è il suo io preferisco così poi magari loro... io vengo da Fremmo comunque ho fatto il secondo del carabiniere quindi li sono un po' legati questo è meglio una cosa il passaggio di comando è avvenuto all'estero? il passaggio di comando è avvenuto all'estero la visita delle delegazioni straniere che sono frequenti è tuttora insomma ma in realtà nel sergitore di Dubai o comunque durante la mia esperienza le navi non erano aperte alla visita della popolazione locale ma non mi risulta e non so se fossero delegazioni militari delegazioni militari sono venute la reazione qual è? molto entusiasmo molto entusiasmo perché effettivamente la tecnologia la visuale diciamo comunque effettivamente è d'impatto vedere una cabina di pilotaggio su una nave non è proprio una cosa né comune sicuramente una cosa molto innovativa siamo i primi al mondo siamo i primi al mondo e quindi di fatto quando le delegazioni soprattutto militari il giro di questa nave e gli approfondimenti poi tecnici di natura capacitiva operativa sull'utilizzo del cockpit mediamente resta molto molto entusiasmo molta curiosità bene procediamo grazie la postazione principale per operare le T580 è qui è ubicata sia sul lato retto che sul lato sinistro e asserve alle rispettive mitragliere in questo momento la telecamera è effettivamente accesa quindi possiamo vedere come l'operatore operando direttamente con i joystick con le varie funzionalità del sistema d'arma riesce a orientare la canna e eventualmente fare attività di fuoco direttamente qui quindi anche questo in termini di sicurezza per l'operatore è un'innovazione molto importante non c'è più bisogno di avere una persona accanto a un sistema d'arma che benché sicuramente sicuro provato comunque rappresenta un fattore di rischio in più posso tenere tutti qui all'interno e comunque condurre le normali attività di fuoco senza esporre direttamente il mio personale al sistema d'arma al contatto diretto con il sistema d'arma in futuro potrà essere comunque accentrato tutto su... dal cockpit è già operabile solo la 2580 mentre non sono operabili le artiglierie ovvero il 127 di Prora e il 7662 di Poppa in questa configurazione l'operatore, il T-Shop quindi l'operatore del tiro e l'operatore addetto all'azione di fuoco siederà qui che è una postazione esattamente paritetica a quelle che abbiamo visto in CoC l'unica differenza che nella versione full sono dotati appunto con questo joystick chiamiamolo così con grilletto e di questo mouse che permette gli aggiustamenti di fino per l'azione di fuoco Allora, adesso scenderemo di un ponte rispetto al ponte di coperta andremo al ponte 2, ponte di sicurezza quindi ponte di sicurezza e il ponte dove insistono ovviamente oltre alle segreterie tre locali particolari importanti ovviamente la centrale operativa di populsione l'infermeria è la zona modulare di pompa Ponte dove? Ponte dove quindi permesso Buongiorno 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 Passate Buongiorno Allora, qui molto velocemente siamo nella centrale operativa di produzione Buongiorno Allora, la nave da un punto di vista propulsivo si presenta in maniera molto complessa però molto performante la velocità massima di speed in wheel è 32 nodi che si ottiene combinando la propulsione a turbina con la propulsione diesel in realtà ha la capacità anche di avere una propulsione completamente elettrica attraverso due motori elettrici e la produzione di energia elettrica mentre viene garantita tramite quattro diesel generatori oppure tramite gli stessi motori elettrici che su propulsione diesel vengono mandati diciamo in rotazione riaversa e quindi producono energia il tutto può essere combinato grazie alla presenza di un grande riduttore che fondamentalmente agisce per accoppiamento di flange e frizioni e permette fino a 41 combinazioni propulsive diverse la grossa innovazione rispetto a Frem rappresentata da tutta questa parte ovvero la presenza di due motori termici principali questo riduttore e quindi la possibilità anche di andare in propulsione con un solo motore su entrambi gli assi cosa che sulle altre navi non è possibile fare un'altra cosa molto interessante in questa nave e secondo me anche molto attuale è la possibilità di produrre energia erogabile all'esterno non siamo autonomi in questa fattispecie ovvero abbiamo bisogno che a terra vengono installate delle predisposizioni a livello di convertitori piuttosto di convertitori di energia però è stato stimato che la capacità di produzione elettrica di questa nave potrebbe alimentare un paese di 15.000 anime colpito da distresse ovviamente non solo produzione di energia elettrica anche possibilità di produrre acqua a consumo umano quindi qui la nave si presenta tra le varie possibilità anche come impiegabile per operazioni di disaster relief sempre per 15.000 persone? più o meno quella lastima adesso continuiamo verso Poppa su questo ponte oltre il punto questi locali più sensibili risiedono anche una serie di alloggi destinato al personale della categoria sotto ufficiali mentre nella zona prodiera dello stesso ponte ci sono la mensa equipaggio e il quadrato maresciallo mentre il quadrato ufficiale quindi la mensa dedicata agli ufficiali e al ponte di coperta sopra e infine per completare il giro della nave entriamo nella zona modulare di Poppa che forse è l'aspetto ancora più interessante da un punto di vista capacitivo della nave qui siamo esattamente sotto il ponte di volo e questa zona appunto così come descritta la zona centrale della nave è completamente configurabile in base alla missione assegnata nel cambio configurazione a differenza della zona centrale qui non siamo indipendenti ma abbiamo bisogno necessariamente dell'ausilio di una gru posizionata a terra in banchina perché sarà necessario rimuovere questo di fatto è un tappo sul ponte di volo in corrispondenza di questi alloggiamenti verdi vengono posizionati dei ganci che permettono la rimozione di questa parte di ponte di volo e poi sarà la stessa gru a imbarcare o sbarcare eventualmente i container in questo momento a bordo ne sono presenti due ai fini logistici una volta imbarcato il container questo sistema a carro ponte ne permette l'aggancio e il corretto posizionamento i tempi di queste operazioni pochi minuti addirittura pochi minuti per il posizionamento in realtà la completa configurazione della nave quindi dalla rimozione del ponte di volo o comunque di questo tappo e l'imbarco beh comporta diverse ore di lavoro è un lavoro abbastanza oneroso dove ovviamente concorrono una serie anche di disposizione di sicurezza per i lavoratori e quant'altro quindi diciamo che almeno una giornata lavorativa per riconfigurare tutta la zona è necessaria quindi diciamo 8 o 9 ore di lavoro e più o meno continuate se riprendiamo quindi in questo momento sono presenti due container ISO 20 scopi logistici la possibilità come dicevo prima è quella di eventualmente imbarcare container a carattere alloggiativo che mi permettono di aumentare la possibilità la capacità appunto di equipaggio di 32 persone perché ogni container ha 8 posti branda più armadietti e un intero container ovviamente è dedicato ai servizi igienici di fatto nella zona terminale sul lato sinistro dell'unità sono previsti tutti gli allacci proprio per permettere il corretto funzionamento di docce, servizi igienici e quant'altro quindi dei bagni a tutti gli attenti per queste riconfigurazioni bisogna essere obbligatoriamente in un arsenale oppure possono bisogna gli shipset in questo momento sono in dotazione marina sono due uno è ubicato alla spezia e uno a paranto quindi comunque si nel senso oppure eventualmente in caso di necessità particolari possono essere trasportati mediamente l'unità assume la configurazione idonea alla missione assegnata prima della partenza quindi per il prossimo deployment confido di avere la zona modulare opportunamente configurata almeno 20 giorni prima di partire in modo da dare tempo a tutte le sistemazioni logistiche di essere opportunamente implementate e quindi di organizzarmi per le conseguenze una cosa molto interessante sempre nella modularità di questa zona è che può essere completamente adattata prerisposta o predisposta per operazioni speciali ovvero non imbarcando container ma delle selle che ospiterebbero degli hurricane che sono gommoni di 9 metri altamente performanti a velocità esprimibile fino a circa 59 anche leggermente superiore e proprio condotti dagli incursori per le operazioni speciali e questo è possibile perché non siamo all'estrema poppa dell'unità ma andando qui accettiamo nella zona portiera della mare quindi su questa sella viene alloggiato appunto un hurricane che eventualmente può essere integrato quindi il team del gruppo di natanti può essere implementato poiché quel portellone grigio è scorretile quindi si apre il sistema carroponte che abbiamo visto di là garantisce la movimentazione trasversale mentre quest'altro carroponte ne garantisce il pick up longitudinale quindi una volta aperto il portellone di toppa non è un vero bacino galleggiante però entra acqua che permette alle eliche di entrare in acqua e bagnarsi e quindi i mezzi sono abilitati ad andare in acqua la nave è stata attestata per rilasciare questi gommoni fino a una velocità di 12 nodi personalmente ho trovato un buon equilibrio con 8 nodi e anche un mare mare 3 quindi con l'intensità del mare pari a 3 quindi anche abbastanza formato siamo riusciti a condurre questo tipo di operazione qui siamo in hangar in questo momento è arredato è settato per ospitare come conference room di Sea Future però in realtà da un punto di vista operativo l'hangar si presenta molto molto spazioso ed ha la capacità di ospitare fino a 2 SH 90 opportunamente con coda e testate e rotore principale ferrati oppure un EH 101 anche questa nave come TREM nasce ovviamente con la filosofia del non man on deck quindi tutta l'automazione permette all'elicottero di arrivare a bordo però di non esporre il personale direttamente alle operazioni di volo fino alla conclusione delle stesse quindi ridondanza e sicurezza diciamo che fanno un po' la padrona su tutta l'unità per come è stata concepita e come è stata realizzata ottimo per favore la 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 la